ciao amici del vpt finalmente si riparte dopo un po di fermo per problemi tecnici ma adesso si riparte alla grande vpt adesso come adesso è composto da tre persone da sottoscritto mia moglie fulvia e mio figlio stefano pratica vpt family e ripartiamo alla grande da oggi adesso stiamo andando alla chiesetta rosa che è un posto che abbiamo già fatto abbiamo avuto molti riscontri come vp ci chiamavano soprattutto dicevano il mio nome fabio è qui se guardate il video precedente vi rendete conto per cui andiamo per capire come facevano a conoscermi perché continuavano a chiamarmi per cui questa indagine sarà un po particolare non useremo tanta strumentazione ma useremo soprattutto microfoni delle telecamere cellulari perché non ci saranno né rf né rugmeter né niente per cui non interferiscono useremo i cellulari i microfoni dei cellulari e vedremo di catturare più evpi possibili in questo luogo adesso stiamo per arrivare e ci vediamo ciao grazie